Siamo qui con Stefano Castello di Guardaoltre. Guardaoltre è un'associazione che si occupa di distribuire pasti caldi alle persone senza dimora. Che cosa ne pensa della polemica che c'è stata questa settimana sulle persone senza dimora? Penso che più che una polemica sia un agire naturale rispetto a quello che è, quello che si è osservato in questa settimana. Non possiamo accettare, e lo dico come cittadino, non solo come volontario di Guardaoltre, che vengano tolte le coperte a chi è già in una situazione di precarietà, che vengano allontanati gli animali da compagnia che fungono anche da protezione per queste persone. Perché questo genera una sofferenza non solo alle persone ma anche agli animali, quindi bisognerebbe capire qual è il senso di certe iniziative. Insomma, sono felice di aver visto che la cittadinanza in qualche modo si è espressa e che oggi ci sia stato un primo presidio. Io sono qui lontano da qualsiasi partito, anche se è stato indetto questo presidio da un partito. Quello che auspico è che partecipi la cittadinanza tutta, al di là delle bandiere, e che partecipino soprattutto le persone che si trovano in difficoltà, quindi coloro che sono realmente in strada, così come è stato lo scorso maggio. Sicuramente è necessario coinvolgere queste persone, perché forse neanche sapevano dell'iniziativa di questa mattina, e ci prodigheremo per questo. Mi sembra molto importante che ancora una volta queste persone si uniscano e che non vengano relegate agli angoli sempre più nascosti, perché hanno poi anche il timore di perdere quelle due cose che hanno, visto che vengono buttate via davanti ai loro occhi. Invece è importante che si riuniscano, perché così come è stato a maggio, degli obiettivi si possono raggiungere se siamo uniti, se siamo insieme, se ci facciamo sentire con un'unica voce. Ognuno poi può aderire alla propria associazione, al proprio partito, però qua la lotta è alla povertà, non è alle persone povere. Quindi in questo credo che ci sia grande empatia da parte anche della cittadinanza, e spero davvero che riemerga questa solidarietà di cui già siamo stati testimoni lo scorso maggio. Grazie.